Ma anche a se stesso, si deve manifestare. Quindi? Ce l'hanno detto, è stato detto che questa manifestazione del creatore è il suo figlio. Son, come Gesù, come il figlio. Ma non è reale, non è vero. È sua figlia. Dice che è la donna il riflesso di Dio sulla terra. Non è il figlio Gesù, ma è la donna, secondo lui. Il creatore si manifesta, il creatore si manifesta in himself in the opposite. In us in opposite. Ah, he create in opposite. Ok. Dice che il creatore si riflette attraverso l'opposto. Il creatore crea dall'esterno, attraverso l'amore. Come Shiva? Ma ora lui vuole avere la risposta. E vuole assorbire la risposta. Deve creare uno specchio. Per vedere se stesso. Non è vero. Non è vero. Questa è la donna. La madre. La madre. La madre. Si. La madre. Il creatore crea dall'esterno. E vuole essere l'energia. Forza l'energia. E la donna crea dall'interiore. E la donna crea dall'interiore. Sì, guarda. Omega. Questa è l'alfa e l'omega. Alfa e l'omega. Quindi la terra è l'ultimo finale, nella discesa. Però nell'ascensione l'utero deve essere... Deve avere una differente natura, deve essere ascensione. Questo è come succede. Dal centro della terra la memoria deve essere rilasciata nella forma di piante, cibo perché le piante se metti un seme nella terra cosa prima vedi è la radice che connette con il centro della terra. Quindi la terra ottiene la memoria rilascia trasforma il passato nel futuro e le radici alle foglie. Ma allora la memoria deve essere integrata nella forma di coscienza. ciò richiede l'animale che mangia il cibo e tra tutti gli animali l'uomo e l'umano è il più evoluto per la ragione che siamo capaci di distillare la memoria nella più completa maniera. Ma prima dobbiamo mangiare quindi questo è lo stomaco il sistema digestivo il motivo per il quale il cibo viene qua è perché è una terra interna prima che la terra fosse là ora la terra è diventata qua questa è l'ascesa della terra l'ascensione della terra ma da qui deve ascendere ancora di più prima mangiamo e qui nella terra il cibo diventa il nostro sangue e ora il sangue va in alto in sette passi attraverso questa interna ascensione possiamo incrementare la coscienza il sangue stesso diventa coscienza incrementata quando raggiungiamo il massimo livello ci sono ancora due passi di più per tornare alla origine quindi totalmente i nove passi dell'ascensione perché nove perché nove perché siamo arrivati su questa terra in nove passi come il primo passo il primo passo è aprire il portale dove entra lo spirito il secondo passo il secondo passo è la forza del creatore il terzo passo polarizzazione l'uno diventa due il quarto passo la dualità la dualità crea la vibrazione energia frequenza la vibrazione l'energia diventa vita luce il fulmine il fulmine diventa il suono il fulmine diventa il suono per quello sentite il suono il suono diventa gas il suono diventa gas il suono diventa gas il vento le nuvole state vedendo sta succedendo questa non è filosofia o mia opinione io le sto mettendo davanti a voi come evidenza ognuno può vederlo quindi il gas diventa liquido per quello viene la pioggia e la pioggia diventa solida e la pioggia diventa solida e la pioggia diventa solida per questo la terra per quello la chiamiamo gravità non gravità cercando verso la risposta se vuoi se vuoi arrivare a qualcosa di veramente significativo vedete queste forze andare dai cieli verso la terra perché noi vogliamo vedere la risposta ma ora noi mangiamo il cibo noi mangiamo il cibo e questi nove passi li riusciamo per tornare indietro per tornare alla fonte per tornare alla fonte sì sì dobbiamo prima rilasciare la prima memoria perché dobbiamo cercare qual è il primo passo qual è il primo ah ok l'ho trovato lo faccio quindi questa memoria che è rilasciata dal cibo quindi questa memoria che è rilasciata dal cibo quindi noi possiamo fisicamente funzionare questa è la prima coscienza questa è la prima coscienza e questo è il bambino la prima coscienza del bambino a muoversi la prima coscienza è la prima coscienza cosa dice? ah 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 io mi intendo più anni che io ok ok questa è la seconda coscienza quindi il secondo passo qual è? ah dobbiamo ricordare ma quel passo è lì ma deve mangiare prima ah quel passo è per quello che il cibo diventa sangue e attraverso quel sangue possiamo sentire un altro livello di coscienza di espansione sensoriale quindi noi possiamo sentire le nostre funzioni fisiche molto bene le nostre cellule quindi il passimo seguente è il gas il vento questa memoria quando è rilasciata quindi possiamo passare al seguente livello di coscienza e per questo che il sangue deve andare al sangue al sangue al pulmonio quindi possiamo respirare e quindi possiamo essere coscienti delle emozioni sentimenti il terzo livello di coscienza non solo puoi sentire ora puoi diventare emozione il sentimento diventa emozione il sentire diventa emozione il passo seguente il passo seguente è il suono il passo seguente è il suono quindi il suono diventa conscio attraverso dentro di noi e siamo capaci di parlare quindi noi possiamo trascendere quindi noi possiamo trascendere l'emozione possiamo ragionare quindi il suono può diventare luce quindi il suono può diventare luce quindi attraverso la memoria della luce possiamo vedere quindi la coscienza può essere in relazione a un contesto molto più grande possiamo relazionarci con altre persone elementi sviluppiamo coscienza sociale e attraverso di questo creiamo la famiglia la comunità e abbracciamo l'intero mondo quindi la grande famiglia è l'universo si, la grande famiglia è l'universo preghiamo agli ancestri alle Dei e agli Dei e risolviamo la nostra coscienza sociale quindi quindi seguo la vibrazione che ha un'altra forma di memoria siamo quindi capaci di pensare che significa pensare? ok pensare significa che la vibrazione diventa conscia o cosciente attraverso di noi con quella coscienza possiamo andare oltre ciò che vediamo entriamo nel futuro entriamo nel futuro ah ideologico ok coscienza ideologica possiamo fare piani verso il futuro prepararci verso il futuro attraverso di questo attraverso di questo entriamo nel livello seguente che è la polarità attraverso quella memoria possiamo percepire gli opposti siamo capaci di discernere e quando la memoria è completa possiamo percepire gli opposti come complementari quando noi siamo mancanti di quella memoria il discernimento degrada verso i livelli inferiori naturale, non naturale proprio, improprio buono giusto, sbagliato piacevole, non piacevole uguale, differente e finalmente mio e tuo nostro e di loro suo la maggior parte della gente fa questo e per questo il lato scuro lavora sul primo chakra sul più basso livello loro vogliono richiamare tutto dichiarare con diritto di avere proprietà su tutto lo invocano come proprio animali minerali minerali tutto contegno la moda tutto ciò che è nascosto coscienza sessuale anche nel cibo promuovendo comune animale comune animale cibo animale aiuto è un'elevazione sessuale come una tendenza sessuale nella mangiare, nel senso passionale. Si creano questi grandi opposti. Ah, e quindi questo genera, oppostamente, una mancanza di potere sessuale. Perché siamo ancora nel primo livello, dice. E quindi l'uomo e la donna entrambi già non possono creare, ovviamente. Perdono organi sessuali, cancro del seno anche, grazie. Con un proposito, per fare l'umanità ancora più basso, più degradata. Per quello diventeremmo un clone, completamente meccanico. Parlerò più di questo. Allora ci manca un ultimo passo e siamo ritornati. Attraverso sapere la polarità possiamo comprendere le opzioni e con le opzioni quindi possiamo fare la scelta. Attraverso il fare la scelta, la forza del creatore fluirà, fluisce attraverso di noi. E tutto dipende da ciò che stiamo scegliendo. Se scegliamo cose piccole, basate sull'ego. Quindi la forza creatore in questo caso si diventa bloccata, si blocca. Questo è il cancro. Tumori. Stigmatizzazioni, atropizzazioni. Anche nella sofisticazione dei sentimenti. Artificizzazione della mente, dello spirito. Quindi noi in quel caso siamo dedicati non al vero creatore ma a un'immagine di valore, è un concetto virtuale. Quindi i nostri concetti. Concetto del valore. Dobbiamo pienamente valore, valorare, dare valore a noi stessi. So, today most of you value themselves by how they can be bought.